Un cordiale saluto a tutti ragazzi. Oggi per la terza puntata dedicata ai veicoli commerciali vi parlerò del furgone Fiat 242, un mezzo capiente, squadrato, sicuro, robusto, economico e maneggevole. Agli inizi degli anni 70 la Fiat pensò ad un'erede che potesse contemporaneamente non far rimpiangere sia il Fiat 238 che i 1100T e in questo contesto la casa automobilistica torinese afferrò al volo un'occasione importantissima entrando in collaborazione con la Citroen trasformando il transalpino C35 nel Fiat 242 e sviluppando un sodalizio che darà grandi soddisfazioni. Il Fiat 242 così come il suo gemello C35 risultò un furgone rivoluzionario adatto a mille impieghi e fin da subito ebbe un grande successo sia in Italia che in Francia grazie ad una scocca molto rigida, ha dei freni a disco autoventilanti sulle quattro ruote con un accumulatore di pressione alimentato da una pompa propria, ha delle sospensioni a ruote indipendenti studiate per lasciare il pianale basso, ad un motore anteriore trasversale sia a benzina che a gasolio di derivazione Citroen CX, ad una meccanica fissata a un sottotelaio estraibile con estrema semplicità in caso di manutenzione, ad un rilevante volume da 9,3 metri cubi, ad un'altezza interna di 182,5 cm su un piano di carico lungo più di 3 metri e largo 179 cm, senza dimenticare le due versioni con portata netta da 15 e 18 quintali. La gamma fu semplice ed essenziale con la versione furgone che ripropose l'apertura posteriore a tre porte, una soluzione che venne ripresa direttamente dal Type H, con i due semisportelli che raggiunsero l'angolo di 180 gradi sovrastati dal portello verticale a tettoia. In alternativa furono disponibili le classiche porti ad armadio e su richiesta anche la porta laterale scorrevole con luce di 118 x 165 cm, mentre la versione camioncino nella letteratura aziendale diventò pick up, termine più moderno e alla moda nella quale il binomio italo-francese decise di non rendere le sponde abbattibili con il pianale accessibile soltanto dallo sportello posteriore. Inoltre, come già detto in precedenza, grazie alle sue straordinarie caratteristiche tecniche, fu possibile utilizzare il Fiat 242 in molteplici impieghi. Dall'allestimento base per venditori ambulanti, il quale fu realizzato con un grande portapacchi strutturato per reggere il tendone estensibile, naturalmente abbinato alla porta laterale, alle configurazioni in versione scuolabus, minibus e anche trasporto pubblico locale, senza eccedere in progetti troppo specialistici. La casa automobilistica torinese, sfruttando l'altezza interna e l'abitabilità che non necessitava di rialzare il tetto del Fiat 242, prese in iniziativa proponendo anche la versione camper del 242, denominata Cavir, il quale fu apprezzata tantissimo fino a diventare un culto tra gli appassionati. Il progetto originario fu conservato per tutto il ciclo produttivo, sia per il 242 che per il C35, e negli anni furono apportati soltanto dei semplici aggiornamenti meccanici. In conclusione, la commercializzazione del Fiat 242 in Italia durò per 13 anni, dal 1974 al 1987, mentre la continua richiesta in Francia costrinse la Citroen a trasferirne la produzione prezzo alle carrozzerie specializzate Chausson e a prolungare la vita del C35 fino agli inizi degli anni 90, precisamente fino al 1992. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, grazie per la vostra gentile attenzione. Ciao a tutti!